E' Antonio Caggianelli, uno dei tre ballerini italiani deceduti in un incidente stradale in Arabia Saudita. 33 anni, bicegliese di nascita, l'artista è morto durante un'escursione nel deserto di Riyadh, capitale dello stato del Medio Oriente. Con lui a bordo dei mezzi anche il romano Giampiero Giari e il siciliano Nicolas Esposto. Le due auto su cui viaggiavano i tre ballerini sono precipitate in una scarpata e nell'incidente è morta anche una quarta persona che faceva parte dell'escursione. Coinvolti nell'impatto anche altri tre italiani, uno con lesioni gravi e due rimasti lesi. Caggianelli era in Arabia Saudita con la sua compagna di ballo che avrebbe dovuto esibirsi durante l'inaugurazione di un nuovo teatro a Riyadh. Ballerino di spicco nell'ultima notte della Taranta viene ricordato sui social come il protagonista assoluto del concertone 2021. Cordoglio, anche da parte del sindaco di Biceglia, Angelo Antonio Angarano, che esprime il suo dolore per la scomparsa di Caggianelli e annuncia il massimo impegno delle istituzioni per il rientro immediato della Salma, già raggiunta in queste ore dai familiari in Arabia Saudita. Da accertare nelle prossime ore la dinamica dell'incidente che ha causato la morte dei tre ballerini con le autorità italiane che hanno già avviato i contatti con gli organi competenti dell'Arabia Saudita, rimane il grande dolore che ha colpito la comunità bicegliese, che nei prossimi giorni, dopo il rientro del corpo in Italia, potrà salutare per l'ultima volta Antonio Caggianelli. Caggianelli